Termino con un episodio che è capitato a me prima che un santo frate, morto proprio in concetto di santità, dove è aperto un processo di beatificazione e io gli chiesi come state e lui mi disse aspetto solo la chiamata, la valigia è pronta. Dicevo io, beato te, conoscendo bene quel frate, sapevo che quella valigia pronta era piena di opere buone, di carità verso gli altri, di amore verso il prossimo, ma soprattutto di amore verso Dio. Aspettava quell'incontro. Delle cose terrene non gli importava più nulla. Fratelli e sorelle, imitiamo i santi. Sia lodato Gesù Cristo.